Una ignobile mediazione a ribasso nel tentativo titanico ma vanno di tenere unite una maggioranza che produrrà fuga dal processo, fuga dalla pena, ghigliottina processuale in appello e quindi garantirà l'impunità per una serie di reati. Io credo che il centrodestra avrebbe dovuto semmai chiedere a gran voce il ripristino della prescrizione che è un istituto a tutela del cittadino e non l'improcedibilità in appello che è una corsa ad ostacoli contro il tempo che ha contro la magistratura nell'accertamento dei reati. E ripeto, è proprio una mediazione a ribasso, le aggiungo di più, è possibile che il centrodestra accetti l'idea che vi sia una particolare tenuità, la non punibilità per particolare tenuità per reati gravissimi fra cui per esempio l'usura. Io credo che sia impossibile, l'usura non è mai particolarmente tenue.